Eccomi, ciao a tutti! Sono Denise Borgherea, insegnante di danza moderna e hip hop alla Casate Sport e con questo video vi farò vedere degli esercizi di stretching e riscaldamento improntati di più su hip hop. Ok? Allora, cerchiamo i piedi, iniziamo dalla testa, allargo leggermente le ginocchia, allargo leggermente le gambe, piego le ginocchia, vado giù con la testa, giù, su. E destra, sinistra. Ok, giro il collo verso destra, verso sinistra. e poi verso destra. Ok, lascio andare il busto molto morbido e lo lascio girare verso sinistra. Cambio, andiamo verso destra. Ok, ora il rigidisco bene tutto. Mani, come se fossero in tasca e il busto è molto rigido, vado verso il basso. e allungo, faccio sempre i miei cerchi, tutto verso sinistra. togli verso sinistra. Ok, spalla dietro, piego i miei cerchi. E in avanti. una sì, prima alla destra, poi alla sinistra. ok, petto va fuori, dentro. Fuori, dentro. 3, 4, doppio. Doppio fuori, doppio dentro. Doppio fuori, doppio dentro. E destra, sinistra. 2, 3, 4, e doppio dentro. Doppio fuori, doppio dentro. Fuori, destra, dentro. Sinistra. Fuori, destra, dentro. Sinistra. Ok, giro il petto disegnando dei cerchi verso destra. Ok, contratto, fuori, sinistra, dentro, destra, fuori, sinistra, fuori, sinistra, dentro, destra, giro e il petto disegnando dei cerchi verso sinistra. Cercate di tenere fermo il bacino, solo il petto si vuole. Ok, piego bene, vado a destra e a sinistra con il bacino. Ok, fuori, dentro, fuori, dentro. Avanti e indietro. Ok, stessa cosa del petto, faccio dei cerchi andando verso sinistra. Piego le ginocchia e muovo solo il bacino. Ok, dall'altra parte, verso destra. Piegate bene, è il segreto per riuscire a muovere bene il bacino. Ok, gamba, destra, vai in fuori. Ok, sono più o meno sulla mezza punta. Ginocchio destro in fuori, torno. Ginocchio sinistro in fuori, torno. Ginocchio destro in fuori. Ok, intanto il mio bacino segue l'andamento. Quindi, mentre la mia gamba torna, il mio bacino va a spingere a sinistra, poi dietro, poi destra e fuori. Destra, dietro, sinistra, fuori. Sinistra, dietro, destra, fuori. Destra, dietro, sinistra, fuori. Ok, quindi, destra, giro, sinistra. Destra, sinistra, destra, sinistra. Ok, ora al contrario. Il ginocchio va dentro, quindi ruoto per bene. e torno, sinistra, dentro e torno. Ok. Il mio bacino si muove ugualmente, quindi dentro e poi va destra, dietro, sinistra e sinistra, dietro, destra e sinistra. Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Ok, ora allunghiamo un pochino il nostro corpo, andiamo verso sinistra, respirate. Non appoggiate il gomito alla gamba, non aiutatevi, state belli su, belli dritti. e giro, parco in giù, allungato bene la schiena, vado giù, cerco di allungare il più possibile, chiedo il ginocchio dietro e prendo il mio piede e lo schieno, lo allungo. Torno, chiedo il ginocchio, scendo giù, e lungo su, allungate e giù, stendo porto indietro il mio busto, non superate con il ginocchio la luce, mano sinistra, prende i piedi, destro. lascia andare, giro verso il centro, abbi o gamba, allungo la sinistra, giro verso destra, e su, allungo, e giù. ok, porto il busto indietro, non superate con il ginocchio la luce, appoggio la mano sinistra, la mia mano destra va a prendere piede sinistro, e lascio, torno su, piego il ginocchio sinistro, prendo il mio piede, allungo, lo tiro, e lascio, vengo al centro, allungo in avanti e lungo la schiena, torno al centro e le mie mani si alzano laterale, giù, su, giù, laterale, giù, su, giù. l'ultimo, e lascio giù la mano sinistra, la mia mano destra si alzano da su, il mio sguardo è verso su, verso la mia mano destra, cambio, appoggio la mano destra giù, la mano sinistra si alzano da su, e vado giù, avvicino i piedi, rimango, allungo il collo, molleggio, ancora sul sedere, allungo, e molleggio, l'ultimo, allungo, e piego le ginocchia, vengo su lentamente. Ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia piaciuto, e grazie per avermi seguito. e grazie per avermi seguito,